Musica Restano alti i contagi da coronavirus. Oggi 642 nuovi casi. Presidio no covid per la clinica di Celano, lo chiede il Partito Democratico. Truffa aggravata contro una banca, il danno di oltre 2 milioni di euro. Musica Polemiche per i collassi dei pronto soccorso. Interviene il commissario provinciale di Forza Italia, De Angelis. Musica Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Al momento di andare in onda, il presidente della regione Marsilio non aveva ancora a posto la propria firma sull'atteso decreto che dovrebbe situire la zona rossa in Abruzzo. L'attesa è durata tutta la giornata ed è quasi certo che il decreto verrà formalizzato nella giornata di domani, martedì, dovrebbe entrare in vigore dal giorno successivo, cioè mercoledì. Resta il solo interrogativo legato alla chiusura delle scuole che non dovrebbero essere tutte chiuse, ma sono solo ipotesi non confermate. Lo stesso presidente Marsilio oggi a Sulmona ha affermato abbiamo fatto numerose e doverose consultazioni, parti sociali, politici, sindaci e presidente della provincia e i prefetti. Ci siamo consultati con tutti e abbiamo deciso di fermare applicando l'articolo 3 del DPCM, cioè Regioni Rosse. Per la scuola abbiamo ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CTS e di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Questo perché non ci sarebbe la possibilità per le famiglie di aver i bambini in casa e di usufruire di congedi parentali e buoni babysitter, perché le attività economiche rimarrebbero aperte e il peso che gravirebbe su di loro sarebbe insostenibile. Riteniamo che sia sufficiente un atto di responsabilità. Domani prendiamolo come giorno di transizione e da mercoledì ci sarà la zona russa. Le scuole per l'infanzia, le primarie, le prime medie, così come stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, rimarranno aperte in presenza. Per tutte le altre ci saranno lezioni a distanza. E sono sempre alti i dati riferiti ai contagi da coronavirus. Rispetto a ieri si registrano infatti 642 casi di età compresa tra 5 mesi e 95 anni. Invece sono complessivamente 19.823 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Positivi con età inferiore ai 19 anni sono 103. Di cui 34 in provincia dell'Aquila, 8 in quella di Pescara, 9 in provincia di Chieti, 52 in quella di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 11 nuovi casi, sale così a 690, di età compresa tra 73 e 92 anni. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 5.634 dimessi perché guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 13.499, 465 in più rispetto a ieri. La clinica di Celano deve rimanere un presidio non Covid. Questa è la ferma posizione del Partito Democratico che, con una nota firma di Ermanno Natalini e del segretario Calvino Cotturone, vogliono chiedere di fare chiarezza sulla notizia che l'Asla dell'Aquila, allo scopo di far fronte all'emergenza sanitaria, nei giorni scorsi, ha sottoscritto una convenzione con la casa di cura privata l'Immacolata di Celano per 67 posti letto da destinare al potenziamento dei servizi sanitari. Ad oggi non c'è dato ancora sapere se i posti letto della clinica richiesti dall'Asla saranno destinati a pazienti affetti da Covid oppure, come ne ospichiamo, ospiteranno dei genti con patologie meno delicate, ma comunque di primaria importanza, con lo scopo di alleggerire il pressante carico dell'ospedale di Avezzano, hanno spiegato. Appare evidente in tutta la sua drammaticità che la mancanza di un'attenta programmazione sanitaria e l'approssimazione con cui la Regione Abruzzo sta gestendo il piano di potenziamento della rete Covid porti a uno stato di disordine, dove a causa di scelte tardive ed affrettate si fa ricorsa alle cliniche private. Per questi motivi il sindaco Settimio Santilli eviti di difendere gli interessi del suo partito, abbandoni le risse verbali che in queste ore sta ingaggiando con i primi cittadini della Marsica e faccia invece affronte comune con gli altri sindaci che hanno chiesto l'immediato commissariamento dell'Asla Aquilana e riacquisti il suo ruolo, non facendosi condizionare nelle scelte dal sindaco di Ovindoli. Mantenere sul territorio marsicano un presidio Covid-free è necessario lo scopo di gestire i pazienti con altre patologie che quotidianamente necessitano di cure ed attenzioni. Nelle giornate di sabato e domenica 14 e 15 novembre, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le forze di polizia hanno effettuato sul territorio provinciale di L'Aquila 705 controlli personali con 15 persone sanzionate, 205 attività e esercizi controllati. E da conclusione di un'articolata attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di L'Aquila e coordinata dal sostituto procuratore Stefano Gallo, i finanzieri della Compagnia di L'Aquila hanno deferito all'autorità giudiziaria il rappresentante legale di una società, al tempo con sede nel polo industriale di Bazzano e operante nel settore della produzione, trasformazione e commercio di alluminio, per il reato di mendaccio bancario e di truffa aggravata, avendo cagionato ad un istituto di credito un danno di oltre 2 milioni di euro. In particolare è stato accertato come tale società tra giugno e ottobre 2018, si è riuscita ad ottenere un anticipo di liquidità dalla banca, presentando ricevute bancarie nell'ambito di un contratto di affidamento mediante anticipazione, salvo buon fine, stipulato presso la filiale di Paganica con lo stesso istituto di credito. Modus operandi, gli artifici e raggiri attraverso quali veniva conseguito l'illecito accreditamento del denaro, possono essere così sintetizzati. La società creditrice presentava alla banca danneggiata fatture emesse ottenuto l'anticipo di liquidità, ne dirottava il pagamento prima della scadenza verso conti correnti accesi su altri istituti di credito. Alla banca danneggiata venivano presentate ricevute bancarie relative a fatture non esigibili. In sostanza, l'istituto di credito anticipava liquidità su fatture che erano state già saldate mediante compensazione, trasmesse ricevute bancarie allo sconto senza alcun titolo di credito a supporto o riportanti estremi di documenti fiscali inesistenti. Tale ultima condotta configura anche l'ipotesi del reato di mendaccio bancario. L'articolata attività d'indagine, che è richiesto oltre all'esame della documentazione contabile, l'esecuzione di accertamenti bancari, l'esclusione di persone informate sui fatti, nonché verificazioni dirette alle aziende clienti, la testimonianza dell'impegno profuso del corpo a tutela della legalità e al contrasto delle condotte fraudolente in genere. E torniamo a parlare del problema dei contagi a seguito di alcune polemiche. Il commissario provinciale di Forza Italia, Gabriele De Angelis, ha emesso una nota sull'emergenza Covid nella Marsica. In apertura ricorda che i Tg nazionali riportano oramai quotidianamente scene di ospedali italiani sovraccarichi e pronto soccorso al collasso, con pazienti costretti ad attendere lunghe ore in ambulanze prima di poter essere ricoverati. Riparti ospedalieri in tilt ed operatori sanitari allo stremo anche a causa anche della carenza di personale. E purtroppo tale scenario si sta verificando anche nella Marsica. Una tale situazione, prosegue, non è certo da attribuire che guida l'ASL da poco più di un anno. Sono anni che l'ospedale di Avezzano presenta gravi carenze strutturali, più e più volte denunciate anche da noi sindaci. La politica regionale è concentrata sulla costa ed è un'efficace direzione sanitaria locale. Per anni hanno penalizzato il sistema sanitario marsicano. Appare quindi singolare la scelta della dottoressa Colizza, la guida di un assessorato alla sanità e ancora di più le sue critiche alla gestione del sistema sanitario marsicano, visto che proprio lei lo ha gestito come direttore sanitario per cinque anni fino all'anno scorso, senza trovare alcuna soluzione concreta agli annosi e già grevissimi problemi della sanità marsicana. Però c'è sempre una differenza sostanziale tra fare delle cose efficaci e dire cosa bisogna fare. La difficoltà vera è la prima. Quindi più che fare proclami o cercare colpe, ora è necessario individuare interventi di immediata attuazione. Con una emergenza in corso e in tempi stretti di reazioni e richiesti dal succedersi degli eventi, non possiamo perdere ulteriore tempo. Sosteniamo e soprattutto collaboriamo con chi guida il sistema sanitario. Innegabilmente la Regione Abruzzo ha ritardo sull'organizzazione sanitaria per la gestione della seconda ondata, ma il commissariamento della Asla 1 adesso sarebbe inutile e pericoloso. Utile invece, prosegue De Angelis, la Convenzione per la Casa di Cura l'Immacolata di Celano, con il reperimento di ulteriori 67 posti, così come il potenziamento di recettività presso l'ospedale d'Italia Cozzo e la realizzazione del Covid Hotel, che possono essere reperiti subito anche da Vezzano, per aiutare le persone a gestire i positivi che non necessitano del ricovero in ospedale, ma devono essere isolati dal nucleo familiare. Infine, è necessario investire da oggi di più sui medici di base, che costituiscono la nostra prima arma contro il Covid. Potenziare la medicina di primo intervento significa decongestionare le strutture sanitarie. I consiglieri comunali Roberto Verdecchia e Alfredo Chiantini rispondono alla nota stampa dell'ex sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, il quale nel sottolineare il ritardo della regione Abruzzo nella gestione della seconda ondata, aveva definito singolare la scelta dell'assessore Colizza alla guida dell'assessorato alla sanità. Nella nota tra l'altro si legge spiace dover constatare, afferma Verdecchia, che chi vuole recuperare un minimo di visibilità politica non trovi soluzione migliore che formulare generiche critiche, dal sapore strumentale e politiche all'attuale assessore comunale alla sanità. Ciò è ancora più strano se consideriamo che tali rilievi provengono da un, per fortuna, ex sindaco che non si è mai dimostrato polemico sulla condotta gestionale della direzione ASL di quel periodo e soprattutto nei suoi 23 mesi di mandato. La verità è che si sta affrontando anche a livello comunale una questione molto più complessa di quella che può essere generata dal posizionamento di un semaforo sparamolte. Si richiederebbe serita anche nelle polemiche. Si può avere visibilità dando una mano come stanno facendo anche alcuni consiglieri di minoranza che non hanno inteso strumentalizzare la vicenda epidemiologica. Chiantini aggiunge, pur di indirizzare provocazioni all'attuale amministrazione, si ignorano alcuni dati di fatto. Per amore di verità è giusto ricordare che la dottoressa Colizza ha lasciato già da due anni la direzione che all'epoca la regione era commissariata. Ed è in piano di rientro e pur in presenza di stringenti tetti di spesa, la politica delle assunzioni aveva portato a sforare il tetto per il personale di ben 2 milioni e mezzo. E come già ricordato da altri, dal 2018 erano stati stanziati 450.000 euro per realizzare posti di terapia intensiva che sarebbero risultati ora preziosi. Focalizziamoci invece sui dati del contagio tra il personale sanitario che costituiscono davvero ciò su cui dovremmo puntare l'attenzione per capire oggi quello che sta avvenendo. E le polemiche politiche al Comune di Avezzano non mancano neppure per aspetti marginali seppure importanti. Ci riferiamo ai centri operativi comunali. Al riguardo il consigliere comunale di opposizione Tiziano Genovesi in un comunicato sinteticamente scrive L'emergenza sanitaria legata alla pandemia c'è ed è sotto gli occhi di tutti ma il Comune di Avezzano, in due settimane dalla mia richiesta alla riunione dell'unità di crisi, non è riuscito ancora a riorganizzare il COC e attivare la sua funzione. A quanto pare emergenza solo quando sono gli altri a dover fare qualcosa, conclude Genovese. Immediata la risposta del Comune affidata al consigliere comunale Antonio Del Boccio. In realtà afferma il COC è stato riattivato e riorganizzato in un luogo fisico diverso da quello in cui era precedentemente ubicato. L'amministrazione ha voluto renderlo maggiormente fruibile e funzionale. La delibera comunale di venerdì, dal giorno 13 novembre scorso, il Comune ha individuato e responsabili delle funzioni di supporto di protezione civile nel piano di emergenza comunale ed ha confermato i servizi di assistenza alla popolazione con i volontari dell'Associazione Comunale di Protezione Civile. La nuova sede operativa COC è ubicata presso l'ex scuola Montessori. Credo di poter ringraziare i genovesi, conclude Del Boccio, per le sollecitazioni alla pubblicazione della delibera, certamente espresse con spirito di collaborazione. Ed oggi c'è un servizio in più per l'assistenza alla popolazione nella fase della pandemia. Il Comune di Avezzano d'Intesa con l'Asla 1 è infatti istituito uno sportello di assistenza psicosociale e sanitaria per seguire con personale sanitario attraverso contatti telefonici le persone in isolamento domiciliare per sospetta o documentata infezione da SARS-CoV. Lo sportello avrà anche la funzione di sostegno nel tracciamento di possibili contatti e servirà ad intercettare particolari situazioni di bisogno sociale e psicologico. In sostanza, l'attività svolta attraverso un operatore qualificato della Croce Rossa italiana integrerà il numero verde dell'Asla 1 per i bisogni di tipo sanitario e sarà collegata con i servizi già operativi nel territorio per bisogni di tipo psicologico o sociale. È previsto l'intervento di un operatore multilingue per cittadini stranieri. L'Associazione Veronica Gaia di Iorio, sportello psicologico e servizio sociale e professionale del Comune di Avezzano. Dobbiamo rafforzare ed integrare, dichiara l'assessore alla sanità del Comune di Avezzano, Maria Teresa Colizza, i servizi sanitari del territorio. Il sovraccarico di richieste e di esigenze riscontrabili a seguito della pandemia è significativo. Il Comune vuole dare una mano a coloro che hanno difficoltà a trovare informazioni e sostegno, considerato il sovraccarico di chiamate che arrivano al numero verde già istituito dalla Asla 1. Per questo, di concerto con il Sindaco di Pangrazio e il Vice Sindaco Domenico di Berardino, abbiamo voluto attivare in via sperimentale un apposito numero di telefono, che è il 351-7397-221. Il servizio è già operativo dalle ore 13 alle ore 19. Ed il popolo della famiglia Abruzzo chiede a tutti i sindaci dei comuni abruzzesi di attivare immediatamente il servizio COC che è il Centro Operativo Comunale per sostenere gli anziani e le famiglie con disabili o persone a rischio, servizio che preveda la consegna a domicilio gratuita di farmaci, generi alimentari e di prima necessità il pagamento delle bollette per quanti non possono provvedere autonomamente. Si fa presente che in moltissimi comuni di altre regioni, come Piemonte, Lombardia, Sicilia, questo servizio è stato attivato già dalla cosiddetta prima ondata del Covid-19 ed ha permesso di alleviare il disagio di tanti cittadini, impossibilitate a muoversi, o a cui è stato espressamente raccomandato di rimanere al proprio domicilio perché affette da patologie croniche o per molti morbidità o immunodepressione. Il popolo della famiglia suggerisce anche di attivare una linea telefonica dedicata agli over 65 soli e senza redditi di sostegno familiare, finalizzata l'assistenza nelle operazioni di acquisto di beni di prima necessità e prodotti farmaceutici. Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile d'Abruzzo, riunito sì questa mattina, ha nominato un nuovo direttore dell'ente teatrale regionale nella persona di Giorgio Pasotti, l'artista straordinario attore, autore, uomo di teatro, che è profondamente legato al territorio abruzzese, sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams mercoledì 18 novembre alle ore 10.30. E questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Noi come sempre prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove è possibile rivedere anche vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci. Grazie.